Il comitato Difendiamo Grotta Rosso è un comitato tra agricoltori che è nato nel 2016 con l'intento di proteggere il territorio da delle interferenze che si stanno verificando con la localizzazione di alcune strutture produttive, nello specifico impianti di riciclaggio di rifiuti e di biometano. Il territorio è innanzitutto all'interno del perimetro dell'area IGP, quindi che identifica delle produzioni particolari, nello specifico sia della pesca di Delia sia del comparto dell'Uva Italia di Canicattì, ma fa parte anche di un territorio più vasto individuato all'interno del DOC Sicilia per i vigneti da mosto. Vogliono localizzare un impianto di biometano, un impianto di biometano che tratterà una grossa percentuale forse quindi dei rifiuti solidi urbani e questo nell'ambito del trattamento del rifiuto, così come nella realizzazione del biometano, comporterà delle emissioni nocive che influenzeranno negativamente il territorio sottostante. Quindi oggi noi siamo qui chiedendo un intervento e la solidarietà anche da parte di tutti gli altri con cittadini affinché il Comitato Difendiamo Grotta Rossa sia in grado di poter contrastare l'ingerenza di questo nuovo impianto. I dati dello Svimez raccontano un'Italia a due velocità. I giovani vanno via e si perde la vocazione produttiva del nostro territorio. Ho deciso di stare vicino alla battaglia dei nostri amici. Per questo il primo settembre con una tenda e con acqua al seguito vorrò occupare simbolicamente quelle terre insieme agli agricoltori. Il Sud deve ritornare nell'agenda politica nazionale, gli agricoltori hanno bisogno del nostro sostegno. Non permetteremo a multinazionali di realizzare impianti industriali in terreni agricoli. Dobbiamo fare digiuno, dobbiamo occupare le terre. Tu cosa rischi di perdere? Il lavoro di quattro generazioni. Rischiamo, ma anche tutti i cittadini della regione Sicilia. Perché quando noi andiamo a inquinare il mare, perché il mare? Perché lì vicino passa l'affluente del fiume Salso, che è il vallone paradiso dell'Iellagiglio. E quindi noi con tutta la frazione umida organica dei rifiuti e quindi l'accumularsi dei metalli pesanti e l'azoto che si libera nell'aria e altre sostanze che sono contenute nella Forzu, che è un rifiuto per il testo unico sull'ambiente, noi rischiamo di inquinare tutto questo. Quindi non solo le zone circostanti e quindi sarà difficile fare agricoltura, ma anche il nostro mare.